Il nostro scopo oggi è quello di bagnare le persone Niente raga ci abbiamo provato però non si è spaventata abbastanza Poi hai beccato pure la tedesca E' vero non sapeva parlare in italiano Iniezione Bozzano Questa è la fila Dobbiamo salire lì sopra Siamo a Polveno, stiamo scalando la montagna Mi sto preoccupando perché sto vedendo le persone con la felpa Io sono in canottiera quindi un po' mi preoccupa la cosa Allora mi hanno detto che qui in montagna bisogna salutare tutti quanti Quindi adesso saluterò tutti Salve Salve, ciao Salve 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 Questa grotta adesso dove entreremo Devi stare attenti perché qui ci sbatti la testa Ok qui ci indicano le ore e noi dobbiamo arrivare qui Abbiamo ancora tre ore di camminata Qui stiamo a circa Eh sarà Sopra i 1.500 Ok Questo è altissimo Siamo arrivati al punto panoramico 1935 metri di altezza Qui di nuovo Questa è la crescita Ora Siamo arrivati Questa è il caso